Il pallone Burdisso la mette in mezzo, cade un giocatore, la palla è lì, Zanetti, limita dell'aria, il tiro, Rade, 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 il capitano, il capitano, il capitano, Rade dell'Inter, Rade, 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 che gol il capitano, che caratteri ragazzi, che cuore signori, bacia la maglia, sono ancora a meno 9, bacia la maglia, e rivediamola, Burdisso, la mette fuori, Guane, Crespo, poi guardate il capitano, il tiro, la saetta, è Doni che vede il pallone alle spalle, è Doni che vede il pallone alle spalle, che gol signori, che gol del capitano, guardatela là!